Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video! Oggi sono qui per filmare l'ultimo video dell'anno, infatti il giorno che lo vedrete sarà il 31 dicembre, quindi siamo pronti per dire addio a questo 2017 e dare inizio a un nuovo anno, il 2018. Allora, prima di cominciare con questo video, che sarà quello dei buoni propositi per il prossimo anno, sia per quanto riguarda i libri che per quanto riguarda la mia vita personale, voglio prima fare una brevissima introduzione. Allora, quello che vorrei dire è questo, molto spesso mi capita di leggere nei vari social, questo anno che è appena trascorso, succede sempre, tutti gli anni, questo anno che è appena trascorso è stato un inferno, il prossimo non sarà da meno, oppure speriamo che il prossimo anno vada meglio, ma sicuramente non ho delle grandi aspettative perché quest'anno è stato schifosissimo e così via. Insomma, molto molto pessimismo. Quindi io sono qui con questo piccolo video che sto facendo attraverso il mio piccolo canale e voglio darvi questo messaggio. Ed è una lezione che ho imparato durante questo 2017 e che voglio condividere con voi. Allora, ogni anno della nostra vita sarà sempre caratterizzato da momenti belli e momenti brutti. È normale ed è anche giusto che sia così. Ci sono ovviamente difficoltà da affrontare, ci sono ostacoli da superare e ci sono delusioni da dover purtroppo fronteggiare. Ma allo stesso tempo ci sono anche tante cose belle che accadono ogni anno e delle quali molto spesso ci dimentichiamo perché la nostra mente tende a ricordare solo i momenti più tristi e a non dare la giusta importanza a quelli felici. Anzi, molto spesso si tende a darli anche molto per scontati, anche le piccole cose belle si tendono a dare per scontate come se fosse tutto dovuto. Ecco, non è così. La vita ci insegna che ci sono momenti belli e momenti brutti e bisogna saper godere dell'uno e dell'altro perché uno ci insegna come affrontare i problemi e l'altro ci insegna quali sono i premi che abbiamo alla fine dei nostri percorsi. Quindi io vorrei affrontare il prossimo anno e vorrei invitare anche voi a farlo in una maniera nuova. Cioè cercando di ricordare le cose belle che ci sono successe. Per questo vi chiedo anche a voi qui sotto nei commenti di scrivermi per quali motivi gioiosi, belli, che vi fanno sorridere vi ricorderete di questo anno appena trascorso. Non voglio sentire le cose brutte, anche se so e do per scontato che ci siano. Voglio sentire soltanto le cose belle, anche se sono piccolissime, che vi sono successe. Perché così leggendo i vostri commenti sarò più felice anch'io. Lo dico perché ci basta guardare un telegiornale per renderci conto che molto spesso, chiaramente casi eccezionali esclusi, comunque molto spesso ci sono persone che stanno peggio di noi. Questo non vuol dire che non bisogna puntare a raggiungere i propri sogni o a migliorare la propria condizione. Ci mancherebbe. Anzi bisogna sempre lottare per questo. Ma allo stesso tempo bisogna essere anche grati per quello che si ha. Ma non dobbiamo semplicemente guardare fuori dall'Italia per renderci conto che ci sono persone che stanno peggio di noi. A volte basta soltanto guardare il nostro vicino di casa o persone che conosciamo, vedere quello che stanno affrontando per sentirci un po' più fortunati magari di qualcun altro, per sentirci non solo in grado di aiutare gli altri per affrontare una situazione difficile, ma anche grati per quello che abbiamo noi. Quindi io spero che questo 2018 sia anche per voi un anno pieno di soddisfazioni, di battaglie belle che anche se vi fanno un po' soffrire, alla fine arrivino sempre a una vittoria. Per me è stato così. Io ho avuto un 2017 che ha iniziato nel peggiore dei modi. Ho avuto dei mesi difficilissimi dovuti all'adozione. Perché il nostro percorso di adozione ha avuto una battuta di arresto che mi ha completamente destabilizzata. Ma avrò modo di parlarvi magari in maniera più approfondita. Sono stata veramente, veramente male. Ma io non ricordo questo del 2017. Io ricordo quando a ottobre, anzi scusatemi, il 23 ottobre, è arrivata la nostra idoneità all'adozione. O per esempio il fatto che abbia chiuso il negozio. Io ero nazi, in quel negozio io pensavo di starci tutta la vita. Pensavo che quello fosse il mio lavoro. E poi non è andato così. È stata una delusione ed è stata una grande sofferenza doverlo chiudere. Però alla fine non mi ricordo di questo. Io mi ricordo che sono arrivata, sono approdata in un lavoro che mi piace tanto e che mi dà tante soddisfazioni. Oppure io ho perso il cane. E se qualcuno di voi degli animali sa quanto questo possa farci soffrire. Poi il mio cane purtroppo non è assolutamente vecchio. È stata una perdita inaspettata e totalmente ingiusta. E abbiamo sofferto veramente tanto. Ma io non voglio ricordarmi di questo, anche se ovviamente Kimi non andrà mai via dalla mia memoria e dal mio cuore. Ma mi ricorderò che quest'anno mi ha portato Tuco. È il nuovo bassotto che ci ha riempito il cuore di gioia. Quindi insomma invito anche voi a fare lo stesso. Bene, adesso concludo la mia... Questa introduzione un po' lunghetta. E comincio subito con i buoni propositi per il 2018 e per quanto riguarda i libri. Il primo buon proposito che ho è quello di rileggere tutto Harry Potter. Lo dico da tanto, lo vorrei fare da tanto. Ma poi alla fine non sono una che abitualmente rilegge i libri e quindi alla fine non l'ho mai fatto. Quindi vorrei i primi mesi dell'anno leggere un libro di Harry Potter al mese per appunto rileggerli tutti. Anche perché ho dimenticato molti particolari e mi dispiace. Quindi insomma spero di recuperare. Secondo buon proposito è quello di leggere più in inglese. Come sapete io ho qualche libro in inglese ma dato che sono una persona frettolosa. Oltretutto quest'anno è stato l'anno in cui ho avuto meno tempo in assoluto per leggere. Leggere in inglese mi rallenta e quindi non leggo mai. Alla fine non mi decido mai. Per l'appunto quando leggo in inglese vale più lentamente, è normale. Però quest'anno vorrei riuscire veramente a leggere un po' di più. Un po' perché mi serve per lavoro tenere allenato il mio inglese. Poi perché obiettivamente mi piace. Quindi devo prendermi un po' di tempo. Rendermi magari ecco partire con la mia intretà di dire ok questo libro mi terrà impegnata due tre settimane. Non importa però voglio cercare veramente di farlo. Terzo buon proposito per quanto riguarda sempre i libri. Mantengo quello che avevo deciso di fare anche l'anno scorso e che mi ha assolutamente portato soltanto buoni frutti. Ovvero quello di non leggere o meglio non andare avanti nella lettura nei libri che non mi piacciono. Quindi non perdere tempo, non sforzarmi di finire un libro che non mi sta trasmettendo niente o che mi annoia o che non mi piace. Perché questo mi porta via tempo e magari avrei potuto dedicare quel tempo a letture molto più interessanti. Ma soprattutto mi fa passare la voglia di leggere. Quindi va a finire che quando il libro non mi piace lo leggo lentamente perché non leggo mai. Ecco quindi l'ho fatto l'anno scorso e questo mi ha portato a leggere libri meravigliosi. Che porterò sempre nel cuore e nella mia libreria e quest'anno voglio fare lo stesso. Quarto buon proposito dell'anno è quello di diminuire un po' la mia TBR. Non sono mai stata una ragazza con tanti e tanti libri ancora da leggere sugli scaffali. Ma da quando, più che altro quando ho chiuso il negozio, ma solo un paio d'anni diciamo, che tante persone mi regalano libri. In più la chiusura del negozio mi ha fatto portare a casa un po' di libri che mi interessavano. Quindi veramente ne ho accumulati diversi che vorrei portare a termine. Sono così di carattere. Ecco, quando sento delle youtuber parlare di avere tipo 100 libri ancora da leggere in libreria e continuare a comprarne di nuovi, mi esplode il cervello e non ce la potrei fare. E per l'appunto, anche questo Natale ne ho ricevuti tanti, quindi il mio obiettivo per soprattutto i primi mesi dell'anno sarà quello di diminuire il più possibile la mia TBR in casa per poi potermi dedicare eventualmente anche a nuovi acquisti, però più in là. Quinto proposito per il nuovo anno, e questo è quello più difficile di tutti, è quello di cercare di leggere quattro libri al mese, quindi un libro a settimana. Non credo che sarà semplice per me perché io, a parte lavorare, quindi comunque ho un lavoro che mi impegna per metà giornata ovviamente, a parte questo faccio tante cose, quindi mi piace il cinema, mi piace la televisione, mi piace il teatro, quindi faccio parte di un gruppo teatrale, barra musicale, insomma, quindi preparare spettacoli, ho le prove, quindi non sono sempre totalmente libera. Però cercherò di impegnarmi di più, ecco, magari stare meno al cellulare e leggere un po' di più nei miei ritagli di tempo potrebbe essere una buona soluzione per incrementare le mie letture. Ok, questi sono i miei propositi per il nuovo anno, non mi sono imposta di leggere niente, a parte Harry Potter, perché voglio che quest'anno mi sorprenda con letture appassionanti e non mi voglio, ecco, obbligare a leggere niente, saranno i libri a venire da me. Passiamo adesso ai buoni propositi per quanto riguarda me personalmente, quindi anche questo fatemi sapere quali sono i vostri. Allora, il primo fra tutti è quello di fare acquisti più sostenibili. Non ne ho parlato tanto sui social, comunque mi sono informata molto ultimamente sui prodotti, in particolare di vestiario, ma in generale, che vengono appunto realizzati in paesi in via di sviluppo o paesi del terzo mondo. In particolare ho visto dei documentari che mi hanno veramente aperto gli occhi. Da quel momento ho cercato di acquistare in maniera più consapevole, quindi cercare di acquistare prodotti che non fossero per l'appunto realizzati in questi paesi e che abbiano poi un costo bassissimo, perché questo significa che qualcuno è stato sfruttato per realizzare quel capodabbigliamento e così via. È per questo che mi sono veramente orientata su acquisti ecosostenibili, sul mercato ecosodidale. Insomma, ho cercato di trovare un equilibrio tra il cercare di non spendere troppo, ovviamente, perché non ho dei fondi illimitati, ma allo stesso tempo di rivolgere il mio sguardo e comunque dedicare il mio denaro a qualcosa che non danneggiasse qualcun altro. Ecco, magari se vi interessa potrei fare anche un video apposito su questo argomento. Comunque, sia per quanto riguarda il cibo che per gli oggetti, insomma, nella mia vita quotidiana che acquisto, voglio cercare di portare avanti questo obiettivo, cioè cercare di fare degli acquisti più sensati, più sostenibili e quindi anche di comportarmi di conseguenza, quindi magari anche incentivando la mia raccolta differenziata, che già faccio, ma magari in maniera un pochino più saltuaria e così via. Cerco di dare il mio contributo piccolo al nostro pianeta, che in fondo infine ci ospita gratuitamente e questo è il minimo che possiamo fare. Secondo buon proposito per il nuovo anno è quello di mangiare un po' più sano. Allora, io non mangio tendenzialmente quelli che definiamo troiai, ecco, nel senso che ho la fortuna di avere una suocera che ha un orto immenso, quindi sono abbastanza abituata a mangiare verdure di stagione e a chilometro, no chilometro zero, a metro zero proprio, però voglio cercare di incentivare un po' di più appunto questo tipo di alimentazione, cercare di mangiare un po' più sano, magari per esempio a metà mattina invece di mangiarmi un bel quadrato di pizza, prendere uno yogurt o una frutta, ecco, cercare insomma di migliorare la mia alimentazione. Terzo buon proposito per il nuovo anno, anche in questo caso riguarda la salute, voglio cercare di fare un po' di moto e quindi vorrei ricominciare a fare pilates e o yoga, che sono due attività che io adoro. Essendo cardiopatica non posso fare sport troppo, che appunto allenano il mio cuore un po' troppo, ecco, metterlo sotto sforzo il mio cuore, però queste due attività le amo e le ho sempre fatte volentieri. Purtroppo per gran parte del 2017 non avevo le possibilità economiche di spendere per l'appunto 50-60 euro in una palestra tutti i mesi, preferivo utilizzarli per qualcos'altro. Adesso che fortunatamente ho un contratto di lavoro più decente, sicuramente riprenderò anche questa attività, quindi da gennaio ricomincerò a fare un po' di attività fisica. Quarto buon proposito per il prossimo anno sarà quello di migliorare il mio canale, quindi voglio cercare di pubblicare più spesso e con più regolarità e ampliare anche i contenuti, come sapete. La mia idea sarebbe quella di pubblicare un video a settimana la domenica sui libri e un video ogni due settimane il mercoledì su altri argomenti che ci possono appassionare e che ci possono fare incontrare. Quinto e ultimo proposito, non ci sarebbe bisogno di dirlo, ma ovviamente sarà così, portare avanti il nostro percorso di adozione. Sicuramente nei primi mesi dell'anno vorremmo dare il mandato ad un'associazione che poi ci guidi nell'adozione all'estero, sperando che il nostro bambino arrivi il prima possibile. Niente ragazzi, quindi fatemi sapere voi che cosa ne pensate, come state affrontando questa fine dell'anno e quali sono i vostri buoni propositi, ma soprattutto voglio sapere le cose che vi hanno resi felici nel 2017. Io vi auguro ovviamente che il 2018 vi porti tanta gioia, tante belle persone, tanti belli incontri, che vi porti tanta tolleranza, tanto amore e soprattutto che tutti i vostri sogni si possano realizzare nel lavoro, nella famiglia, negli amici, nell'amore, in tutto. E ovviamente spero e vi auguro di leggere tanti 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 bei libri. Niente, noi ci vediamo il prossimo anno, ovvero tra qualche giorno, qui sempre su YouTube. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao!